dei Vigili del Fuoco Buongiorno a tutti, Parco degli Orti, ieri mattina i Vigili del Fuoco sono stati impegnati contemporaneamente in due operazioni. Da uno scantinato in un condominio in Viale Ionio contenente materiale infiammabile si sono alzate volute di fumo che facevano pensare a un incendio molto più grave di quello che poi effettivamente e fortunatamente si è rivelato. Il timore era che ci fosse qualcuno di intossicato e pertanto è giunta sul luogo anche l'ambulanza oltre che i carabinieri. Peggiore invece l'incendio che si è sprigionato per cause dolose al Parco degli Orti dove persone non identificate hanno dato fuoco all'erba secca appena sfalciata. È intervenuto l'elicottero antincendio della caserma dei pompieri di Mestre che ha fatto la spola riempiendo la cisterna dalle acque del Brenta e rovesciandole sulle fiamme. I Vigili del Fuoco a terra hanno cercato di arginare il fuoco ma alcune serre sono rimaste danneggiate dalle fiamme. Lo leggo da Chioggia Azzurra. Oltre agli avvistamenti che negli ultimi tempi si sono susseguiti nelle nostre zone dagli Ibis del Nilo in Val d'Ario, i Cigni, i granchi azzuri nelle nostre spiagge, ieri a Venezia è stata una giornata di festa. Una coppia di delfini è entrata in Canal Grande ed è stato un evento eccezionale. Entrati da Sacca a Fisola percorrendo il canale della Giudecca, il bacino di San Marco, il Canal Grande fino alla Salute hanno incantato i residenti e i pochi turisti. I video sul web sono diventati virali e probabilmente invitati dal minor traffico acqueo si sono dati alle loro acrobazie. Inoltre, per non che non corressero rischi, l'imbarcazione della polizia ha acceso le sirene per invitare gli altri natanti a rallentare. I due sono poi tornati in mare aperto. Le immagini hanno portato un raggio di luce, riporta la nuova Venezia di oggi, una ventata di speranza per il futuro. Agri Free è un'azienda di Porto Viro che coltiva grani biologici a chilometro zero in piano parco del Delta del Po. Dalla macinazione a pietra del proprio grano ne ricava la semola e le farine bio che vengono successivamente utilizzate per produrre pasta bio e altri prodotti come gallette, grissini, biscotti e piadine. Il nostro motto è vivere bene, mangiare sano, prodotti italiano. Agri Free, i sapori del Delta. Per info 338-344-7466 oppure www.agrifree.it. Andrea Penso. Il Tribunale di Venezia ieri mattina ha convalidato il fermo di polizia per Andrea Penso, conosciuto come lo Smilzo. Gli sono stati contestati reati di furto, resistenza pubblico ufficiale, evasione dagli arresti domiciliari, violazione del coprifuoco. Tutti i reati commessi negli ultimi giorni. Resterà in carcere a Santa Maria Maggiore a Venezia fino al 29 aprile. Intanto sul suo conto si stanno eseguendo ulteriori indagini per altri reati di effrazione. Il 29 aprile si terrà l'udienza in cui verranno valutati tutti i reati commessi precedentemente. In base all'esito potrebbe rimanere in carcere o condannato agli arresti domiciliari controllato dal braccialetto elettronico. Lo leggo da Chioggia Azzurra. Per quanto riguarda la cittadella della giustizia in cui dovrebbe trasferirsi il commissariato di pubblica sicurezza, la procedura non è semplice, spiega il vice sindaco Marco Veronese. A breve sarà siglato un protocollo d'intesa tra comune, demanio, ministero dell'interno e prefettura per sancire che lo Stato potrà acquisire la proprietà comunale della cittadella. Poi si potrà continuare l'iter burocratico necessario e solo in seguito l'adeguamento strutturale. Lo ZTL. Gli assessori Marco Veronese e Gianni Cavazzana hanno dato delucidazioni riguardanti la zona di traffico limitato in centro storico. Hanno puntualizzato che i varchi della ZTL al momento resteranno accesi solo di notte. I veicoli comunque potranno accreditarsi per aver diritto ad accesso alle aree vietate. Il transito tra Porta Santa Maria e Isola dell'Unione non subirà invece variazioni. L'intenzione è stabilire regole in modo progressivo. L'inizio sarà morbido per avere la possibilità di capire eventuali anomalie da correggere. Le prime ore del mattino si potranno svolgere le classiche operazioni di carico e scaricomerci per le attività. Lo leggo da Chiosia Azzurra. Da ieri comunque fino a domani incluso, un'ordinanza ha istituito il divieto di sosta in alcune zone del centro storico per i lavori propedeutici alla ZTL. L'appuntamento di culto con la pizza sottomarina torna finalmente incontrare i suoi tantissimi affezionati e ad accoglierne di nuovi. La pizzeria D'Aleo in via Padova 1 è aperta tutti i giorni dalle 17, anche su ordinazione. Contatta quindi il numero 041 55 40 550 dalle ore 16 e prenota la tua pizza preferita. La pizza D'Aleo ti aspetta. Sicurezza. Marco Dolfin, consigliere regionale e comunale della Lega, in termini di sicurezza si augura che il sindaco Ferro abbia organizzato un vertice relativo alla sicurezza, invitando prefetto e rappresentanti delle forze dell'ordine. I fatti di questi ultimi giorni non devono passare in secondo piano. Sono pochi gli individui che commettono reati ai danni della collettività, ma sembra che nonostante il duro lavoro delle forze dell'ordine non vengano poi puniti in modo congruo. Secondo Dolfin non si sta comunque investendo sulla sicurezza, mancano presidri nell'arco delle 24 ore. Serve la presenza fisica degli agenti, non sono sufficienti le telecamere. Non sembra comunque si parli più della nuova sede del commissariato della pubblica sicurezza alla cittadella della giustizia e comunque manca un personale di rimpiazzo. Lo leggo da Chioggia Azzurra. Il sindaco di Cavarzere Tommasi controbatte a chi sostiene che non fare passare il traffico pesante sulla Piovese sia una specie di ostruzionismo. Semplicemente afferma quel tratto di strada non è adeguato a sostenere il traffico che verrebbe qui dirottato per evitare le code al semaforo sul ponte sul Brenta. La Piovese è stretta e pericolosa, costellata da tanti piccoli ponti ormai vetusti. Passa ridosso del centro storico, afferma. Su queste strade Stato e Regione non hanno mai investito. Inoltre i sindaci affermano di non essere comunque mai stati interpellati dall'ANAS. L'unica alternativa è che il traffico pesante venga spostato sull'autostrada e la richiesta verrà avanzata insieme al sindaco di Chioggia. Lo leggo sulla Nuova Venezia e ne dico la oggi. Buongiorno a tutti, sono Fabio Tiozzo, mi occupo di consulenza finanziaria e patrimoniale. Da alcuni anni organizzo una serie di incontri formativi gratuiti aperti al pubblico. Proprio per questo motivo desidero invitarvi al mio prossimo webinar che si terrà mercoledì 23 marzo alle ore 19 attraverso la piattaforma Zoom. Il tema sarà la Cina e la nuova via della seta. Per partecipare è semplicissimo, sufficiente registrarsi nel link che troverete al di sotto di questo video. Il webinar, ripeto, è gratuito ma appunto è necessaria la registrazione essendo il numero limitato dei partecipanti. Il webinar è puramente a carattere formativo e non a scopo commerciale. Quindi rinnovo il mio abito, iscrivetevi e vi aspetto. Sindaco Ferro, dopo l'incontro online con l'assessore ai trasporti Regione Veneto Elisa De Berti e i comuni interessati nella tratta Rovigo-Chioggia, ammette che non ci sono risvolti positivi sulla questione. L'intenzione concreta è che il 20% del trasporto su rotaia venga portato su gomma in un rapporto di costi ricavi negativo. Secondo il Sindaco, la Regione non sembra puntare su Chioggia, che da anni invece chiede sulla ferrovia maggiori investimenti. Lo leggo da Chioggia Azzurra. Parliamo invece di Mose. La Corte dei Conti ha ottenuto il pignoramento delle disponibilità finanziarie dell'ex presidente del Consorzio Venezia Nuova, Giovanni Mazzacurati, coinvolto in un giro di corruzione e tangenti legate al Mose, morto nel 2019. Si tratta di 1.200.000 euro lasciate in eredità accettata con riserva. Il danno procurato allo Stato da Mazzacurati sembra essere di quasi 7 milioni di euro. L'obiettivo adesso è il pignoramento di beni individuati dal nucleo di polizia economica finanziaria di Venezia, tra cui una casa cortina del valore di 2 milioni e mezzo. Lo leggo su Venezia Today. Parliamo di vaccini. I medici dell'USCA e gli infermieri domiciliari della US3 Serenissima stanno effettuando anche le vaccinazioni a domicilio per gli over 80, che non hanno la possibilità di muoversi da casa. Per il momento sono stati vaccinati in questo modo 375 anziani e insieme agli anziani vengono vaccinati anche coloro che prestano loro assistenza. Si tratta quindi di altre 900 persone circa, tra familiari stretti e assistenti. Dopo l'inoculazione del vaccino attendono circa un quarto d'ora per verificare che il soggetto non mostri particolari difficoltà. Lo leggo sul canale Telegram di Chioggia Azzurra. In tema vaccini comunque l'incognita è la disponibilità. La disponibilità del personale degli UB è di vaccinare 35.000 persone alla settimana. Si punta a 3.000 persone al giorno, sempre che i vaccini comunque arrivino. I metodi di prenotazione sono comunque cambiati. Per alcuni vale la lettera inviata dalla stessa ULS, per altri vanno effettuati online o tramite call center. I vaccini per gli anziani sono Pfizer o Moderna, come per i soggetti fragili e per i disabili, mentre per insegnanti, personale scolastico e forze dell'ordine queste vengono vaccinate con AstraZeneca. Lo leggo sul Gazzettino di Venezia in Edicola Ieri. L'appuntamento di culto con la pizza sottomarina torna finalmente a incontrare i suoi tantissimi affezionati e ad accoglierne di nuovi. La pizzeria D'Aleo in via Padova 1 è aperta tutti i giorni dalle 17, anche su ordinazione. Contatta quindi il numero 041 55 40 550 dalle ore 16 e prenota la tua pizza preferita. La pizza da Leo ti aspetta. Se amate la poesia, in particolar modo la poesia d'amore, una nostra concittadina, una giovane nostra concittadina, Benedetta Micello, di 19 anni, frequentante l'ultimo anno del liceo classico, sta partecipando a un concorso di poesia con un bellissimo testo, in occasione della terza edizione del concorso Dantebus. Se volete leggerla e votarla perché lo merita, la trovate sulla pagina social.dantebus.com. Turismo. I sindaci del G20 chiedono un confronto con il Ministro del Turismo per concordare le linee guida della prossima stagione turistica. L'ordine del giorno dovrebbe riguardare i protocolli sanitari, la promozione internazionale e una data di apertura di stagione, che si spera possa essere per metà maggio, in modo da incentivare il turismo tedesco. Questo da Gazzettino e ne dicole a ieri. Mentre, parlando di quello che è successo a Malamocco, a bordo strada appunto a Malamocco è stata ritrovata un'anatra crocifissa, episodio avvenuto sabato. Del ritrovamento è stata comunque avvisata la polizia locale, oltre ad aver fatto il giro del web e della stampa. Sembra che l'anatra sia stata crocifissa dopo essere morta, fortunatamente, di morte naturale, ma è l'atto di crocifiggerla che ha indignato l'intera comunità, un gesto che secondo gli animalisti non deve essere sottovalutato. Lo leggo dal Gazzettino di Venezia in edicola ieri. Ricordandovi che la farmacia di turno, oggi martedì 23 marzo, è la farmacia La Nevecella di Viale Mediterraneo, io vi saluto, vi auguro una buona giornata e se volete ci vediamo in negozio. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti!